Da lunedì 19 novembre 2018 non potete più uscire di casa senza avere visto che tempo farà. Il nuovo programma di Previsioni del Tempo in onda tutte le sere su FanoTV dopo il Tg Occhio alla Notizia. Previsioni serie, scientifiche e documentali. E certo che su serie, con sta pioggia, con sto vento è tornato Flavio Vento. Cari amici del FanoTV è il vostro esperto meteo... 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 Meteorologo... Meteorologo di fiducia, il vostro colonnello dell'area... Aeronautica. Mi raccomando, non potete scappare di casa se non guardate prima che tempo farà. Quando? Quando? Tutte le sere su FanoTV? Sempre. Dopo il Tg? Mi raccomando, tutti a guardare a Bucappella. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. FanoTV. FanoTV.